Ciao amici di Conso Tennis, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ciao Fede, su che fuso sei? Ma che mezzo io? Quello di un satellite di Saturno, non so, scegliene uno. Allora, tu sei a Milano, anche se dovresti essere in Australia. I Milan Open li chiamiamo noi, lo sapevi. Per questo non ti vediamo nella tua solita location. Esatto. Allora, Fede, siamo al primo mini giro di BOA degli Australian Open, perché sono terminati i primi turni che quest'anno erano spalmati su tre giorni, anziché su due, che è una cosa che mi dà molto fastidio. Anche a me, perché hai dovuto lavorare un giorno in più. Vabbè, ti pagano pure un giorno in più, però. Invece a me da solo fastidio perché non mi piacciono le cose asimmetriche, quindi preferivo un giorno e un giorno. A Parigi, credo, è da tantissimi anni che lo fanno su tre giorni il primo turno, no? Uno dei primi anni, se non il primo, mise Rozzonga la domenica che a momenti perdeva. In conferenza stampa disse, prima di rinunciare a rispondere alle domande, qualcosa come... Se mi fate ancora una roba del genere io non vengo più. Comunque sono conclusi i primi turni e pochissime sorprese, avevamo prima il tabellone, hanno perso nel maschile addirittura soltanto due delle prime, delle 32 testa di serie. E non tra le prime, tra l'altro. Esatto. Mentre, sorprendentemente, ma anche no, molto bene gli italiani. E in plena nel maschile, 6 su 6, 3 su 6 nel femminile, per un totale di 9 giocatori italiani o giocatrici italiani al secondo turno, che è il record storico per l'Italia in questo torneo. Abbiamo deciso, prima della puntata, di non parlare molto dei big, perché ovviamente ci sarà tempo per parlarne. E tra questi includiamo Yannick Sinner, che ha vinto con Bande Zanschlup in maniera abbastanza netta, come immaginavamo, e giocherà contro De Jong. Insomma, Fede deve giocare con la sinistra per perdere, forse. Ci concentriamo su... Sono un bacino, eh, Gioia? Te lo ricordo sempre. Che è mancino? Eh, che io sono mancino, sì. Quindi a me tutte queste cose, si è svegliato col piede sinistro, deve giocare con la sinistra, mi stanno un po' sulle palle. Comunque, parleremo più avanti di Yannick Sinner, perché molto verosimilmente il suo torneo sarà lungo. Parliamo degli altri, e io ho scelto come immagine copertina di questa puntata la foto di Falavio Cobolli, perché secondo me, tra i nostri che hanno vinto, la sua è la vittoria più importante, sicuramente la più inaspettata, perché ha battuto Jarry, che appunto è una delle due teste di serie che non hanno raggiunto il secondo turno di cui parlavamo prima. Sì, l'altro è Bublik, che quando sono arrivato in redazione stamattina, l'ho visto sotto 2-7-0 con Nagal, ho detto che cavolo sta combinando, ma non era in buona, si vedeva. Eh, no. C'era giornata no. Comunque, Cobolli, volevo stimolarti una riflessione. Allora, questo ragazzo è arrivato da, non so se 101-102 in Australia, quindi era fuori di 1 o di 2 per il tabellone principale, ha dovuto quindi fare le qualificazioni, è sempre una situazione un po' strana, perché tu lo aspetti in quei giorni prima del torneo di entrare, molto spesso, insomma, quando sei fuori di 1 o di 2 per settimane, molto spesso alla fine entri, anche se, insomma, l'assegno del primo turno fa gol a molti, quindi si è ritrovato a giocare le qualificazioni, che in uno slam sono una sorta di torneo a parte, le ha superate, ha giocato contro Jarry, era indietro di un break al quinto e ha vinto al quinto, insomma, tanta roba. La critica che hanno sempre mosso a Cobolli nei suoi primi anni di circuito era quella di non avere un colpo letale, che era un po' anche quello che dicevi tu, Fede, nella scorsa puntata, sta dimostrando, secondo me, che il colpo in più che ha rispetto agli altri è la testa, sembra proprio un giocatore vero. Sì, io tra l'altro ho commentato due delle sue tre partite nelle qualificazioni e sinceramente credevo che questo fatto, al di là della superficie, che comunque non è la sua, perché rimane la terra, il fatto di non essere riuscito ad andare in tabellone anche per la quantità di giocatori con il ranking protetto, credevo potesse un po' influire anche sulla mente di Cobolli, perché comunque lo ritieni quasi un'ingiustizia, anche se ormai appunto negli slam si sa che ci arrivano pure a piedi, in bici, a nuoto, oppure di giocare. Ha giocato le due partite che ho commentato, sono state ben lottate, soprattutto nel secondo turno, giocava con questo giocatore tedesco di origini libanesi, Hassan, che secondo me sul cemento gioca meglio di lui, ha più armi, però Cobolli, come dicevi tu prima, è più giocatore, e l'ha vinta per quel motivo. Invece poi nel turno decisivo ha giocato contro l'argentino, di cui in questo momento mi sfugge il nome perché voi dovete perdonarmi, ma sono tre giorni che non dormo. Tre giorni che non dormi? Sì, non riesco a prendere il giro, quindi è un disastro. Ma non mi vedi? Comunque mi era piaciuto anche in quel match e Jari è un giocatore che tende a sciogliersi nei momenti chiave, va a servire per me, col servizio che si ritrova. Poi ho visto, ha fatto anche meno ace, dico, Cobolli. Io la partita non l'ho vista perché ne stavo commentando un'altra. Ho visto poi gli highlights, così un po' a spizzichi e mozzichi e comunque i messaggi sono due. Cobolli è appunto un giocatore vero e Jari è un giocatore invece che si porta dietro, nonostante abbia il DNA tennistico in famiglia, si porta dietro una paura di chiudere che lo condizionerà per sempre. Però insomma, prima volta che giochi in tabellone principale qui, seconda volta in assoluto, va a Parigi l'anno scorso, ha beccato Alcarazza al primo turno, Cobolli, prima volta al quinto sete, è proprio un territorio inesplorato, non sai neanche il tuo corpo magari come reagisce, hai già giocato tre match di qualificazioni, anche in queste condizioni sta facendo molto caldo negli ultimi giorni a Melbourne e la vinci così, allora è ben augurante la cosa. Detto questo, a mio parere, rimangono i, chiamiamoli problemi, comunque le criticità nel gioco di Cobolli, che secondo me non gli renderanno la vita facile lontano dalla terra battuta, così com'è. Quindi copo inizio gioco, la difficoltà nello sfondare, nello scambio, però bravissimo. Adesso affronterà Kotov, che insomma è una signora presa per un secondo turno slam, da non testa di serie, anche se lui è come se avesse inglobato la testa di serie di Jarry. Kotov che ha battuto in uno dei tornei di inizio anno Musetti e i precedenti dicono che Cobolli ne ha vinte due su due, si giocava nei Challenger, era il 2021, quindi è tutt'altro orizzonte, però insomma meglio averli vinti i precedenti che no. Sì, poi Kotov la partita se l'ha vinta due volte al primo turno perché affrontava Rinder Nash e ha avuto match point per chiudere in 3-7 e l'ha vinta al quinto, quindi insomma anche lui si è fatto una discreta remata e sì, dici bene. Un giocatore che tira forte è un bel po' sovrappeso secondo me, soprattutto per la giovane età ci sarà sicuramente da soffrire, ecco, una battaglia. Eh beh. Però insomma le chance le hai come Cobolli. Andando avanti abbiamo visto nella prima giornata la vittoria di Arnaldi contro la wildcard Walton e adesso affronterà De Miner sulla Road Lever Arena, quindi è un campo principale ovviamente perché De Miner è australiano. Partita, secondo me, da un punto di vista di risultato proibitiva. cioè non do moltissime chance al nostro. Non so, magari un set. Beh, insomma, De Miner è in un bel momento. Ha giocato una partita un po' strana al primo turno all'australiano perché ha affrontato Raonic che il primo set sembrava quasi Raonic quello vero e poi invece ha cominciato a calare anche perché si affida al suo schema servizio e poi mi sposta sul dritto se però non tiri il colpo vincente gli rimane tutto il campo scoperto ed è Miner è rapido come ha cominciato a punirlo e poi sei infortunato dove cambiare Raonic e il terzo set si è ritirato. Ma che dire il test di Walton sembra come una lezione di fisica facciamo il test di Walton non è stato neanche troppo un test se non nel primo set è durissima è durissima con De Miner in casa mi aspetto una partita molto lunga però sì? Molto lunga quindi non tre set non detto quanti set una partita lunga cioè scambi brevi non me li attendo da quei due giocatori mi aspetto invece scambi lunghi e lotta senti invece sono molto curioso del tuo punto di vista su Musetti perché ho visto che insomma l'hai ho visto e ascoltato che l'hai commentato al primo turno una partita che a me è piaciuta pochissimo onestamente e adesso prende Fanache francese molto giovane insomma favorito Musetti però mamma italiana Luca Fanache sì papà belga nato in Belgio poi cresciuto si è trasferito in Francia cresciuto a Ex-en-Provence parte favorito ripeto Musetti però insomma non mi sento di dire nettamente allora con Bonzi la partita non mi è piaciuta granché ravvedo un po' le solite criticità cioè la difficoltà di imporre il suo gioco questa tendenza naturale a tirarsi indietro e a palleggiare fidandosi del suo grande talento lui ha tante soluzioni tecniche e quindi può anche bastare l'altro giorno è bastato anche perché Bonzi non è stato così continuo nel suo martellamento ma nei momenti in cui il francese serviva bene e riusciva a controllare il dritto che è il suo colpo più ballerino cavolo erano guai perché di rovescio tirava affiondate e Musetti rimaneva corto nello scambio non entrava quando la palla era più corta siamo sempre lì mi sembra un giocatore che mentre sulla terra riesce a mascherare di più questo suo atteggiamento naturale che ha sul cemento invece deve un po' forzarsi e lo ha fatto nel finale di partita secondo me quando ha visto che di là Bonzi cominciava a rallentare e il punteggio comunque gli ha detto bene allora si è tranquillizzato ha giocato un po' meglio anche con il dritto ha trovato più profondità migliori scambi della partita le cose migliori le ha fatte vedere alla fine diciamo che Vanasche non lo può sfondare perché è un giocatore leggero quindi ha la possibilità di vincere Musetti però io penso che l'ingresso nel team di Musetti di Corrado Barazzutti risponda un po' anche a questa esigenza di avere una voce in più una voce autorevole diversa da quella con cui lui è cresciuto con Simone Tartarini non diversa nel senso che dice altre cose che magari te le dici in una maniera diversa perché poi comunque il segreto di Puccinello ovviamente lo sa lui per primo qual è ai massimi livelli il problema del suo gioco e poi il casino è tradurlo quando sei in partita sì però ecco sono molto d'accordo con questo ovvero sia qualcosa va fatto perché se no cioè ha il talento per per rimanere a determinati livelli che sono livelli ovviamente altissimi però non più di quello se non fa altro no? sì ma infatti poi lui non aveva mai vinto un match in Australia strano no? perché lui ha vinto Juniores e poi nel tabellone principale del torneo vero non aveva vinto una partita e ci sono anche questioni dei sei nostri che hanno passato il turno soltanto Sinner e Sonego avevano vinto una partita in Australia magari c'è anche una questione di sblocco lui c'è pure la fidanzata australiana insomma dovrebbe sentirsi un po' di casa quello che dici è vero io credo che comunque rimarrà sempre un giocatore che non vede l'ora che inizi che arrivi aprile ecco mettiamola così allora andiamo avanti Zeppieri oggi ha battuto ha battuto Lajovic insomma stanotte ha battuto Lajovic e troverà Norri e secondo me qua è qua pure molto complessa la situazione perché sono due mancini rovescio contro rovescio la vedo scura per per Zeppieri però Zeppieri però dritto contro dritto la vedo meglio per Zeppieri vero verissimo Zeppieri mi sta sorprendendo in positivo è uno che vince le partite sorpresa non lo so perché comunque già l'anno scorso quando poi lui è entrato a far parte del team di Max Artori si parlava molto di fare un lavoro sia sul fisico sia sulla sistemazione di alcune cose che ancora erano da mettere a posto e io già l'anno scorso a Parigi quando ho giocato un gran bel torneo poi sul centrale ha vinto un set a Rood io credo che Giulio ce l'abbia la qualità per stare ampiamente in un tabellone di uno slam quindi più che sorpreso diciamo speravo che questi progressi arrivassero e la facilità con cui si è qualificato dimostra che ormai lui appartiene al livello di quelli che appunto non dovrebbero più aver bisogno di passare dalla porta di servizio nei grandi tornei sì sì primi 100 deve deve postarci tranquillamente l'ultimo di cui parliamo è Sonego perché è l'ultimo in ordine cronologico che ha vinto allora ha vinto una partita complessa più che complessa che si stava complicando molto con Dan Evans che ha vinto il primo set è stato vicinissimo a vincere il secondo sembrava averne di più rispetto a Sonego poi insomma Sonego quando si mette in lotta lotta però si stava mettendo male perché ha avuto set point nel secondo set ha avuto è andato avanti 4 a 0 nel tiebreak Evans e ha avuto anche un set point sull'otto set mi sembra sì e poi in generale in tutto il set la sensazione che avevo era che Sonego non riusciva mai a rispondere praticamente e avesse perso quel secondo set non sarebbe stata finita perché con Sonego non è mai finita Evans viene da un infortunio quindi non è esattamente in una condizione straordinaria come poi si è visto però insomma probabilmente sarebbe stata bella complessa come diresti tu Fede io l'ho guardata con l'occhio sinistro la partita perché stavo commentando Alcaraz però ogni tanto giravo l'occhio sul match di Sonego tu ovviamente sei obbligato insomma a commentare determinate partite io consiglio agli appassionati di non vedere Alcaraz Djokovic e Sinner i primi turni vedete l'altro tanto ci sarà tempo per vederli Sonego che affronterà il secondo turno proprio Alcaraz che tu Fede hai commentato oggi contro Gasquet io appunto ho visto Sonego ho seguito il live score di Alcaraz ho visto che sostanzialmente la partita è durata un set è durata un set però vabbè secondo me sarebbe finita 3-7-1 anziché 3-7-0 però Gasquet alla fine avrebbe meritato di vincere il primo set perché Alcaraz ha giochicchiato ha avuto 9 palle break in 3 turni differenti di Gasquet e se la giocate male in certe circostanze è stato Gasquet a servire bene in altre è stato lui a sprecare e nel tie break ha avuto due servizi per chiudere Gasquet lì non gli è entrata la prima e quindi ha sfruttato la chance quando perdi un set al tie break dopo un'ora e un quarto con Alcaraz anche se non gioca in un match ufficiale da due mesi e sei Gasquet di anni nel 37 si è uscito dai primi 100 per la prima volta dopo 18 anni proprio lunedì scorso Gasquet numero 131 ha cominciato a spuotere la testa già tornando verso la panchina sapeva che la partita era finita lì nel 37 ne dimostra qualcuno in più Gasquet però comunque ci manca dovesse essere su ultimo Australian Open come probabilmente è stato quello di Mare e ci mancherà a voglia senti vorrei un tuo parere ma anche se temo la risposta sul look sull'outfit di Alcaraz lo smanicato ti piace? ma no ma a me già non piaceva Moya prima ancora di Nadal cioè lo smanicato però dai Nadal ci stava benissimo beh però c'è Alcaraz abbia sto fisico da buttare via pure Alcaraz ci sta molto bene ecco diciamo su Zverev non Zverev Zverev già già meno no comunque l'hanno chiesto in studio Aerospot a Henman gli hanno chiesto preferisci la t-shirt o lo smanicato e Henman che è londinese ha risposto né l'una né l'altra io voglio l'Apolo camicia una camicia come negli anni 30 la camicia era di lino con le maniche lunghe allora caro Ferrero chiudiamo col giro di pronostici soliti esclusivamente sugli italiani sì allora Sinner De Jong vabbè passo 3 a 0 ah poi set vuoi e poi il punteggio colazione in camera e cosa vuoi di più va bene dai 3 a 0 Kobolli Kotov eh vabbè che è stanotte a l'una sì Kobolli in 4 concordo quando quando non dico nulla concordo Musetti Vanasche eh qua è due anche dico Musetti in 5 a 7 io in 4 Arnaldi De Minor De Minor in 4 a 7 De Minor in 3 Zepieri Norri mamma mia dai mi butto Zepieri in 4 Norri in 4 Norri in 4 Sonego Alcaraz in set ti direi ma prova di allora qui c'è da dire che l'unico precedente l'ha vinto Sonego anche se è datato Cincinnati 2021 quindi e allora lì Alcaraz era entrato nei primi 100 da qualche settimana aveva vinto il primo torneo ATP poco prima a Umago 250 di Umago in finale proprio contro Gasquet il suo avversario di questa mattina poi ha trovato Sonego a Cincinnati e ci ha perso in 2-7 però capito 2021 infatti lo ha detto Sonego dopo la partita ha detto ci siamo affrontati però insomma sono cambiate tantissime cose da quel giorno là Gasquet dopo la finale di Umago ha detto questo arriva a top 10 facile ma proprio senza problemi buongiorno beh però sai poi quando succede sono ticapaci ma la promessa non viene poi sempre tradotta non lo so e poi con Sonny insomma siamo anche con Paesani però io devo fare cioè devi essere professionale temo Alcarazzi in 3 temo anch'io allora chiudo prima di chiudere volevo dirti allora stanotte stavo vedendo un po' qua un po' là no invece mi interessa sapere poi mi dici come le guardie le partite perché i Juan Carlos Ferreira hanno detto divano telecomando coperta tu anche quella formazione lì stanotte sì sono steso quando la situazione lo richiede mi ah le guardi così le partite mi metto sì sì diciamo di sì quando la situazione lo richiede al tie break mi siedo soltanto per gli australian open perché sono di notte ovviamente non è che sono ma i generi di comfort non so caffè snack no no ogni tanto mangio mi alzo mangio però poi tu sfumazzi quelle robe lì come si chiamano quella roba lì laicos e invece volevo raccontarti che quando ero più giovane molto più giovane che c'era Wimbledon con l'interattività di Sky dove c'erano addirittura sei campi all'epoca io me lo ricordo io e un mio amico avevamo l'abitudine di guardare una partita break cambiamo campo break cambiamo campo cioè guardo quella che è sulla prima finestra diciamo quando c'è un break cambiamo campo e guardiamo quella dopo eh sì insomma abbastanza scusa qual era lo scopo di sta roba? per vederle tutte cercare di vederle tutte eravamo malati di tennis e quindi cercavamo un appiglio un episodio per farci cambiare canale comunque dicevo stavo guardando tutte le varie partite e ho detto domani dico lancio questa bomba Ferrero sul torneo mi lancio in questa previsione e dico che il Rune secondo me potrebbe addirittura perdere con Safiullin è solo che Safiullin ha perso perché l'ho visto carississimo ha giocato a due set impressionanti e poi stamattina mi sveglio e ha perso questo è il tennis eh già va bene ragazzi ok ciao Fede ci sentiamo presto va bene ciao a tutti ciao ciao